SIGLA 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 Nooo Perché Perché Guarda tu vado che mi ha rubato la skin A parte che c'è la banana in testa Anziché il cappello Tu vado mio fratello Raga Vai Espelli Godo Moda di dire Perché non Ve raga POV Giochi nelle pubbliche Diamo un gas Oh raga Non ci gioco da un sacco di tempo Cosa gioco nelle pubbliche A parte vabbè L'altro giorno Che mi sono messo a trollare Con il maestro Moriconi Ma raga Io In video Non ci gioco da un sacco E devo dire che è Veramente peggiorata La situazione In modo anche drastico E lo credo bene Vediamo se fanno l'ossigeno No 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 Oddio se chiudessimo stiva Vediamo Vai Sei morto Ok Vediamo Where Mi sa che mi hanno beccato Greeny safe ha fatto trash Ok Votate PKP E chi è PKP? Ok Ok Why? Perché? Ovviamente lo voterò Non mi farò domande Però boh Ok non mi hanno beccato Ho fatto una kill rischiosissima Perché mi sono dimenticato Di non essere muta forma Vabbè Quindi mi sa che ne hanno buttato fuori un altro No mi sa che l'hanno votato Ok l'hanno votato Cioè meglio per me Meglio per me Perché comunque De impostore è meglio Però per farvi capire Raga Quanto votano a caso Senza motivo Senza motivo Ovviamente non era lui ragazzi Però c'è È troppo caotica la situazione Nelle pubbliche Ogni volta che ci giochiamo ragazzi Ok quindi Andiamo tutti quanti in electrical Suppongo Grande l'altro impostore Che fa finta di fare le task Geniale Bravissimo Ottimo 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 Qua Ci sono due persone Che fanno loro Che è successo Cosa? Dicono che dobbiamo votare Ah l'arancione Chi stiamo votando? Vabbè io voto l'arancione Perché penso che l'abbiano votato più persone Ok Lo hanno votato E noi abbiamo votato fuori Raga Sto vincendo senza fare kill L'ho fatta una dall'inizio del game Ma che ca... Non è possibile questa roba Non è possibile questa roba Allora aspetta Fammi fare una roba La buttiamo le luci Che ci sta secondo me Ok Va gli lascio la kill da fare lì Andiamo via Andiamo via Andiamo via Ezz 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 Non c'era nessuno in cam Oddio si che c'era qualcuno in cam Ottimo Ho chiuso electrical Magari guadagno tempo Così magari guadagniamo un pochettino di tempo Raga E ci sono andato a votare le comunicazioni Ah no l'hanno trovato Ok va bene Chi è ingegnere? Giusto per sapere Votate Krimlex Why Krimlex? Perché noi dobbiamo votare Krimlex? Io non voto Io non voto Non schippo Ma non voto Oddio Madora A caso Stanno votando gente a caso ragazzi Ho fatto bene A non schippare A non schippare Ok Io raga mi metto qua Ripara luci Le hanno riparate le luci? Ah non lo so io Non ancora Non ancora Non le riparano raga Sicurezza Dai qualcuno che viene qui Ok abbiamo vinto Ezz A posto Nice Nice one Ma raga mezza lobby buttata fuori a caso A caso Senza senso Totale One eternity Later Vabbè Vabbè È andata così ragazzi Ma perché vanno così veloci Player nelle pubbliche Come fa la gente a giocare così? Fa schifo Guarda No raga Quitto Among Us Le pubbliche Fa davvero davvero schifo Among Us È una merda Va bene Va bene Va bene Game d'astronauta E la cosa mi fa abbastanza paura In realtà ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se vi piacciono i video di Among Us Per sapere ragazzi Perché ho fatto un bel po' di video Su Among Us E più o meno Mi sono andati tutti quanti Abbastanza bene E nel frattempo ragazzi Vi spiego anche perché sto facendo Among Us Nel frattempo Quando andiamo in elettrico Le ci facciamo le nostre taschine Aspetta che mi fermo un attimo Aspetta che mi fermo un secondo Partita Nuove cose Nuove possibilità E la possibilità di riportare In questo caso L'arancione in elettrico Quindi andiamolo subito a scrivere È in info Ma te l'ho detto Cos'altro devo dirvi Orange è morto in elettrico L'ho trovato là Chi? Qualche info Ma che ne so Che ne so io Allora Il rosa accusa il viola Il viola accusa il rosa Sarà una partita molto interessante Infatti si sono votati a vicenda È molto interessante la partita ragazzi Molto interessante questa cosa Vabbè per il momento abbiamo schippato Raga quindi niente Direi di andare avanti Di fare le tasche Abbiamo il download Da fare sta tasca È di un lungo ragazzi Di un lungo Penso che potrei addormentarmi Buonanotte Ciao Ok no è finito il download Devo svegliarmi E andare avanti a giocare Dobbiamo andare in admin Perché stavo andando a destra Io che devo andare giù Andiamo giù in admin A fare l'upload Ce lo togliamo subito Se riusciamo Speriamo Speriamo Allora mi perdevo molto sulla carta Invece nell'ultima volta che ho fatto L'ho fatto sempre bene Comunque è morto il blu E' riportato dal grigio Ok schifo Uh hanno votato il Il bed È chiaro È stato espulso Da perché No non ce la conferma Se non ce la conferma Se era l'impostore No ragazzi Non lo sapremo mai Mannaggia È uno schifo così eh Ma ho tensione Oddio questo ha chiamato la meeting Ragazzi Gli ho appena dato del bambino Perché mi ha accusato a caso Stiamo schippando Lo spero Perché non c'è prova Io voto il rosa Solo per difendermi Mi spiace Ma non ha senso sta call Eh ma non mi hanno votato Il motivo Il motivo Qual è Qual è il motivo Di sto voto Raga le lobby pubbliche Di Among Us Mi fanno cagare Mi fanno cagare Ve lo giuro Mi fanno cagare Potrebbero curare La stitichezza Alla gente Poi dice diventi tossico Ma grazie al cavolo Grazie al cavolo Boh forse abbiamo vinto Raga Non lo so Non mi interessa Nemmeno saperlo Perché la frustrazione È a un livello tale Che manco l'idea ne avete Signori spero che questo video Di Among Us Vi sia piaciuto Se così posso Vi invito a farmelo sapere Lasciando un pollicione in su In descrizione Trovate il gruppo Roblox Instagram Discord Trovate tutte le cose incredibili Nel gruppo Roblox Trovate anche le magliette Ance Sono Romix Da 31 marzo A 2 di apri Ragazzi ci vediamo come al solito Al prossimo video Ciao 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 Ciao